mister domani per concludere al meglio il campionato e iniziare a pensare con la testa giusta ai playoff nazionali? Sì, finisce il campionato, teniamo fermi chi è che ha diffidato per precauzione, quindi daremo spazio un pochettino a chi è che ha giocato meno anche per mettere minutaggio nelle gambe, ma ovviamente voglio vedere chi è che ha voglia di starci a giocarsi i playoff, quindi è una prova anche per chi ha giocato meno, come ho detto prima, ovviamente le motivazioni non sono quelle di 3-4 settimane fa, però ci devono stare motivazioni per far vedere chi è che magari vuole giocare, chi non vuole giocare, chi c'è, chi non c'è, abbiamo 3 settimane poi di sosta dove andremo a curare ancora meglio la parte fisica e tecnica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.